Salve a tutti, sono Daniele Radaga, ho 31 anni e sono l'executive chef dell'M Restaurant all'interno di una boutique hotel 5 stelle lusso a Roma, classificata come Small Luxury Suite nel mondo. Colgo l'occasione per dirvi che anche io tanti anni fa ho deciso di intraprendere gli studi alberghieri a Pellegrino Artusi e grazie alla grande dedizione data dai professori di sale e cucina Danilo Compagnucci e Delito Camelio collegata anche alle tante esperienze lavorative di ristoranti stellati e non d'Italia e di Roma come ad esempio con Riccardo Di Giacinto e Antonello Colonna a 26 anni sono riuscito per la prima volta a gestire come chef di cucina la mia prima brigata in un ristorante importante di Roma e con l'occasione colgo per dirvi che con passione, amore e tanta dedizione seguendo questi studi ma soprattutto questo lavoro un domani ce la potete fare anche voi come ce l'ho fatta io quindi in bocca al lupo a tutti quanti e iscrivetevi al Pellegrino Artusi buona giornata